111, si chiama in 3 l'ora una battuta di Dabbi Schiba, questo forse è qualcosa a meno, ma è un ace! Uno potrebbe dire sì, certo, è entrato in battuta, un ragazzo freddo, ha esperienza, io leggo 2001. Va a forzare! Trova un grande ace di Dabbi Schiba. Dabbi Schiba al servizio, in una maniera un po' fortunosa. Ed è l'ace di Dabbi Schiba, a gancio compiuto, 12 pari. Ancora Dabbi Schiba, palla corta. Ancora Dabbi Schiba, palla corta. Ancora Dabbi Schiba